Let's go! Allora, girotondo spaziale Sì, l'ho già fatto Mi è ricrasciato il computer un'altra volta Durante la registrazione Quindi, rifacciamolo Ah! Non bisogna subire danno E io sono corretto Ok? E vi voglio dimostrare come si fa Ora Aspettiamo Cioè, non c'è altra Soluzione Ah, a parte fare questo Però non mi va Quindi, let's go E facciamo così Ok Poi Uno Due E andiamo Mi servono le monete E qualcosa dava monete Ah Mannaggia Vai Ok Ah Come? Scusa Ok Andiamo di qua Anche se le monete Effettivamente Mi potrebbero servire Qui si trova la prima gemma Ok? Poi Let's go E let's go Ora Dovete Dovete Fermare uno di sti cosi Prendere la cipolla O l'aglio O quello che è Con gli occhi E buttarla Da questa parte Per prendere La Seconda gemma Detto ciò Vi conviene Fare in questa maniera Prendere il fungo Cioè il martello Per un mafigo E andare A tutta birra Ok? Se non vi scade Ecco Sono un deficiente Ma questo Lo sapevamo già Ah Mi manca L'ultima gemma La prendiamo Ah Spero che non Ricrasci un'altra volta Perché se no Butto il computer Nel CS Ok E non bisogna Subire danno E questo è il problema Più grande Buono Fenicottero Ok Let's go Eh? Voglio un attimo Vedere Ma Bu Non ho capito Perché prima Mi Si è attivato Ok Ma già abbiamo Preso le cose Quindi Let's go Facciamo così Abbiamo già preso Pure quello E quindi Non ci resta Che fare Questo Vai Oh Ok Non ci dobbiamo Preoccupare Per quanto riguarda Il coso Perfetto E in teoria Dovreste rifare Tutto da capo Ok Bloccate questo Pallotto Lo built Mi sta venendo Addosso Ah Alleluia Poi Bloccate uno Bloccate l'altro Quando si alza E let's go Poi Bloccate già Questo Avete raccolto Già Tutte le cose Che vi serve Quindi Mamma mia Uh Ok Andate subito E ora Andate da questa parte Dove avete preso La cipolla Ok Cliccate sto bottone Fate questo E let's go Ah E questa era la missione Di non prendere danno Nel livello 26 27 28 Che è il livello Finale Dell'episodio 3 Dovete prendere le monete Qui 150 Correndo E già È una pazzia Ok Però Ormai me lo sono imparato A memoria Quindi let's go Mamma mia Uh Ce la posso fare Qui Non sapete Quante volte Ho perso Ok Fate così Poi Rifate Quindi let's go E andate Avanti In teoria Ok Uh Girate sempre La telecamera Vi conviene Ve lo assicuro io Ah Purtroppo Devo prendere Tutte le monete Perché 150 monete Comunque Devo prenderle Quindi Let's go Allora Ok Va bene Anche se siete rivolti Da questa parte E qui Si fa difficile Perché Prendete questa strada Prima Poi Ripercorretterla Ripercorretela Si E game over Lo so Ok Ah Let's go Appena se ne va Let's go Perfetto Ah Questa è tutta Matematica Ok Una volta che siete morti Comunque Completamente Dovreste In teoria Riaffrontare La prova Da capo Quindi Prendendo tutte Le cose Io adesso Lo faccio Perché sono Un bravo ragazzo Ok Let's go Vi voglio vedere Che l'ho superato Realmente Soprattutto E che non Fingo Ok Devo rifarlo Vi rendete conto Della problematica Della situation Ok Mamma mia Vai 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 Qui Eh vabbè Ho mancato una cosa Ma non fa niente Dovete andare su questo tubo Spararvi E sistematevi un attimo Prendete il one up Qui Perché Vi è utile Allora Sistematevi Perfettamente Al centro E una volta Andati Let's go Prendete tutte Le monete Cavolo Let's go Ok Va bene Ho fatto una cosa Molto diversa Dal solito Ma ce la sto facendo Let's go Non devo perdere Tutte le vite Perché se no Ammasso Ok No vabbè Sono sciamo Poi non manco posso dire Ste parole Let's go Vai Ok Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ok Perfetto Ok Vado di qua Prendo tutto Prendo tutto Prendo tutto E vado avanti Non ho preso tutto Ma Va bene No No Non va bene Per niente In realtà Let's go Ok Ce l'ho Fatto 128 Ora Devo stare Buono Qui Fare così Ok Buono 159 E ce l'ho Fatta Il gargarozzo Adesso Siamo Giunti Dove ero Prima Ok Lo rifaccio Per avere un po' Di Più di vite Let's go La piattaforma Di ferro Affonda Qui bisogna Raccogliere 200 monete Che è impossibile Secondo me E let's go Tra l'altro Bisogna Correre Vai Allora Vorrei tanto Fare qualcosa Di Intelligente Ma molto probabile Non lo farò Quindi Let's go Prendiamo la prima moneta Sì La prima gemma Le monete Ne abbiamo raccolto Ormai 47 E bisogna Sempre raccoglierne 200 E questo Il problema Delle monete Quindi Vai 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 Perfetto Ok 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 Va bene Devo andare qua Fare così Fare così Prendere sto fungo E correre Sempre di più Non potevo stare lì Non ci credo io Ragazzi Non me lo prenderò Il coso E non so manco Quanto monete ero Ok Vai Secondo me Questa è una mia Il mio parere Non bisogna Prendere Le cose Che rallentano Quindi let's go Però dai Impossibile Che Sennò Che Mi mettono A fast Vai Ok Vai Veloce Ok Vai Pazienza Riuscirò A farci qualcosa No Perché Perché Ok Io rimango con la mia Teoria Non prendo più Le barbabietole Sono barbabietole Non sono barbabietole Ma io questo Non lo so Ma Comunque Non le prendo più Ok Secondo me Non bisogna prenderle Bisogna essere Super fast Qua E quindi Non le prenderò Let's go Ok Va bene Va bene Prendo Tutte le monete Che mi Ricordo Ti prego Ok Faccio così Aspetto Vado giù Prendo Faccio Vado Veloce Faccio così E vado qua Poi Ok Ok Quindi Devo Scendi qua Non è fare strano Tanto strano No Non posso Non posso Non posso Ho capito Però Let's go Non prendo le barbabietole Ok Non le prendo Fanno perdere tempo Perché ero un bel po' avanti Magari se Faccio Perfette Una perfetta run Perché alla fine Queste sono tutte run Sono almeno Per me A me Sembrano run Ok Ok Può sembrare Stupido Quello che faccio Sì Tantissimo Che Non prendo alcune cose Ma secondo me Bisogna per forza Fare così Ok Secondo me Dovremo Anche In un certo senso Accogliere I cosi I nemici Che dai Può essere Che Stanno messi lì Così Non credo Ok Va bene Va bene Vai Vado qua Scendo Faccio Veloce Verso qua Faccio così E Vado Vai Non lo so Sto Rischiando Grosso Terza Non so dov'è Non so dov'è la seconda A sto punto La seconda dov'è Ho preso la gemma L'ultima gemma Che Mi rimaneva Ok Perfetto Vai Veloce Ti prego Ok Naggia Ok Ho preso tutte le gemma Adesso Devo pensare Solamente A una cosa Ovvero Prendere le monete Vai Ok Ci sono 24 monete Devo imparare a salire velocemente Anche Devo sempre tenere premuto Mi so Cioè Non c'è Altra soluzione Vero Quindi Ok Ok Vai Perfetto 114 monete 114 monete Perché Perché Ci sono stato Troppo tempo Vai Dai ce la posso fare io credo in me non devo mancare neanche una moneta di quelle importanti intendo ok let's go 115 vai 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 ok vai 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 devo essere velocissimo ti prego ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta 200 monete non mi importa più niente let's go ce l'abbiamo fatta incredibile ma vero adesso non ci resta altro che affrontare wingo per l'appunto oh mamma mia ce l'abbiamo fatta toad salvaci tu e pensare che abbiamo ancora altri livelli da affrontare mamma mia e domani affronteremo wingo pronti let's go ciao 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 ciao